buongiorno a tutti gli amici francesi del trotto mancano 17 giorni al prix d'amerique io sto in italia non vedo l'ora di venire in francia per vivere l'ultima settimana prima dell'amerique in marina intensa speriamo di vedere un bellissimo amerique e chiaramente auguriamoci che i colori della vivance siano primi sul traguardo a presto ci vediamo all'amerique